Qualcosa comincia a muoversi per la realizzazione del nuovo ospedale di Teramo. Dopo mesi durante i quali l'azienda sanitaria teramana ha ricevuto semplici manifestazioni di interesse, è arrivata finalmente una proposta corposa e dettagliata per la costruzione del nuovo e grande nosocomio del capoluogo a Prutino. L'iniziativa proviene da un gruppo non abruzzese ed è un project financing. Il nuovo ospedale di Teramo è un'opera per un valore di circa 250 milioni di euro, con 600 posti letto da realizzarsi in zona Piano Daccio. La normativa impone all'amministrazione di valutare nel termine di tre mesi l'eventuale fattibilità della proposta. Così la Sla di Teramo ha avviato un'approfondita istruttoria per l'analisi del progetto e per l'esame del piano economico-finanziario particolarmente complesso. A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro interno coordinato dal direttore amministrativo Maurizio Di Giosia, supportato da tecnici esterni che dovrà affrontare tutti gli aspetti giuridici, tecnici ed economici legati alla proposta. Se gli approfondimenti daranno esito positivo dopo tutti i controlli e confronti, solo allora potrà essere avviata la vera e propria gara d'appalto. Nelle more dovrà essere perfezionato l'ite del finanziamento pubblico del nuovo nosocomio di Teramo, che, sebbene sancito in atti ufficiali, non sia ancora definitivamente concluso. Una volta chiusa la gara d'appalto, l'Asla di Teramo si dice convinta che l'opera potrà essere realizzata in meno di quattro anni.